Buonasera, oggi si tiene il primo Memorial in onore di nostro padre che è stato organizzato da tutte le forze dell'ordine che sono qui e oggi giocheranno in un torneo di otto squadre e questa cosa non fa altro che emozionarci perché vedere tutte le persone che si sono riunite qui oggi per lui e per ricordarlo ci fa rendere fieri di nostro padre ancora più di quello che siamo e di quello che siamo stati nella nostra vita. Per cui ringrazio davvero tutti quegli presenti e spero che ci si possa divertire e il ricavato che verrà ottenuto oggi sarà donato in beneficenza a Cresciazzura di Vigione. Buonasera a tutti, siamo qui presenti in onore e per ricordare mio papà, il brigadiere dei Carabinieri, Calogero Anastasi. È il primo Memorial che organizziamo in suo onore. Abbiamo deciso di coinvolgere tutte le forze dell'ordine per ricordarlo, siamo al Cavallino e con piacere ho organizzato questo torneo. Il ricavato verrà donato alla Croce Azzurra di Vigevano e quindi ringrazio tutti, gli sponsor e chi giocherà per aver partecipato e grazie mille. Grazie. 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 Grazie.